Dall'unità all'interno della sera, l'interno dell'arte è capace di portare la regolazione di Norma G. Ritardo agli tortini che oltre alle persone di regolazione del consorzamento hanno avuto il riso violenso dei propri sottegitori. Alto corto dell'area di rigore si accentra Cocco, prova al destro, grande intervento di Masneri alla quinto. C'è anche committante, palla che gira, attenzione la deviazione, novese in vantaggio. La deviazione di Pollero al diciassettesimo, dimenticato la difesa rossonera. Ancora a chiamare lo schema, arriva a ondate, la formazione ospite, prova al copo di testa, poi ancora vivo per Longhi che ripropone a centro area di testa. Pollero non riesce a inquadrare la porta. Era conquistato da Poesio, tocco corto per Marjanovic sulla tre quarti, scarica su Daniele, arriva al sinistro, a lato. Palone che è ancora buono, attenzione il traversone, Acquaro, 2-0 della novese, protesta l'oltre Pavoghera. E poi... Fuori gioco o no? Perché è un fallo dal fondo, fallo. Fallo di Acquaro. Accelera. Poi con l'esterno cerca Acquaro, chiude la difesa, ancora Acquaro col sinistro, il palo! Palo a salvare l'oltre Pavoghera. Poi Ponsat allontana di Placido, novese a un passo dal 2-0. Ancora Longhi col suo destro, attenzione ai centrali difensivi. Palla che spiove, la palla resta lì il destro, gran parata di Capra su committante al trentatresimo. Parte Longhi, parla Capra, la palla resta lì, 2-0. Matteo Longhi, la novese raddoppia al Parisi al trentottesimo. Romano con le mani, anzi Decio, Marjanovic. Tocco per Rapoeso, aggredito regolarmente, perde palla. Arriva sempre a raddoppiare la novese sui portatori di palla rossoneri. Occhio alla ripartenza, Acquaro. Parte in velocità, si accentra ancora Acquaro. Il sinistro, alto, sopra la traversa. Acquaro di testa, attenzione c'è spazio, l'uno contro uno. Prova, la conclusione, c'è il tris. Il tris di Balestrero alla quarantaquattresimo. Grande giocata. Arriva il traversone di Ponsat direttamente tra le braccia di Capra. Che rischia Capra. E poi la riprende. E Cocco esce con un netto anticipo. Arriva il fischio, parte Ponsat, deviazione. E poi Capra riesce a parare. Traversone della sinistra. Prolungata, la palla buona. Attenzione al destro. E la parata, ci ha provato Daniello. Di testa, raccoglie, cantatore. Tocco dentro. Ponsat col destro. La parata di Capra. Punto di battuta. Palla che gira dentro l'area. Arriva il copo di testa. Poi Poesio calcia malissimo. Che occasione per Poesio. Ha sparato altissimo. Da ottima posizione al sedicesimo. Lascia proseguire il direttore di gara. Palla che filtra. Attenzione Balestrero. Ancora in zona tiro. Il destro. La palla in rete. Sono quattro. E ora diventano pesanti le proporzioni della sconfitta. Si inserisce Maugeri sulla tre quarti. Maugeri punta verso la porta. Ancora Maugeri sinistro. Il doppio palo. Incredibile. Sfortunato. Oltre a Pavoghera al trentatresimo. Ottimo spunto. Ottimo spunto di Lorenzo Maugeri. Quarantesimo. Coccu dalla destra. Prova a puntare Ponsat. Esce. Arrivare al traversone. La conclusione di Panigata sul fondo. Tutto regolare. Panigata lanciato da Gnada. Dalla destra. Panigata. La conclusione. E c'è stato un salvataggio. Un salvataggio di Vinci. Ancora a sinistro di Poesione. E finisce qua. 4-0. Per la Novese. Al Parisi.